Cambiamo decisamente argomento, nuovo spot targato Acquedotto Pugliese che punta all'utilizzo dell'autoclave per evitare disagi in casa. A chi non è capitato almeno una volta di ritrovarsi insaponati sotto la doccia senza potersi risciacquare oppure di restare senza acqua mentre si è intenti a lavare le stoviglie? In questi casi spesso sono imputate ad Acquedotto Pugliese responsabilità nell'erogazione del servizio quando invece le criticità derivano esclusivamente dall'ineguatezza dell'impiantistica interna. E allora ancora la devi mettere e questo il claim della nuova campagna di ACUPI che si concretizza in un progetto volto a diffondere informazioni sulla normativa che regolamenta il servizio idrico integrato e a incentivare l'installazione delle autoclavi per poter usufruire di un'erogazione idrica adeguata alle esigenze domestiche.